Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento The Witcher, il vecchio mondo, in questa edizione italiana a cura di Pendragon, che io ringrazio di cuore per avermi fornito questa copia per la recensione, e vi ricordo essere la copia Raytail della scatola base del gioco, perché diverse persone che io conosco, diversi tempi fa, mesi fa, hanno fatto il Kickstarter della versione uscita in inglese, penso poi successivamente anche in italiano, dove c'erano addirittura tante espansioni e stretch goal. È arrivata una scatola a un mio amico che sta all'isola del Barta, così pesava tipo 20 chili, con tutta la roba che c'era dentro, ma quella che vedete qui è l'edizione italiana a cura di Pendragon della Retail Box, quindi della scatola base, del set base. E The Witcher, il vecchio mondo, è un board game che ci catapulta in un gioco competitivo, da 1 a 5 giocatori, come riporta la scatola, durata a 90-150 minuti, sì, forse anche qualcosa di più, perché una partita dura veramente due ore e passa, e da 14 anni in su, sì, mi sento d'accordissimo con l'età, perché non è un gioco complicato, ma complesso, come dico sempre. Ci sono tante regole da tenere a mente, che una volta fatta magari una partita, la seconda viene da sé, però comunque è un gioco da capire. E ci sono diverse meccaniche già riviste in altri giochi, che vi dirò a breve, però comunque c'è da tenere a mente diverse cose, e un pochino di rodaggio serve, ecco, mettiamola così. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. The Witcher, il vecchio mondo, è un board game che ci catapulta nell'ambientazione di The Witcher. Ammientazione che abbiamo visto, abbiamo letto nei romanzi, abbiamo visto nei videogiochi, e soprattutto nella serie televisiva, che, peccato, sia stata interrotta la terza stagione, perché Henry Cavill ha abbandonato, comunque, interpretazione sua di Geralt di Rivia magistrale, che se ne dica è stato veramente bravissimo. E, come vi immaginate, Geralt dei romanzi o dei videogiochi, lui l'ha fatto perfetto. E siamo nel mondo di The Witcher, quindi avremo posti famosi come Wengerberg, da cui viene, ad esempio, Yennefer, la maga Yennefer, l'amore di Geralt, oppure abbiamo Kermoren, la fortezza dei The Witcher, della scuola del lupo, o abbiamo anche altri posti come Novigrad e altri ancora. In questo gioco è un gioco competitivo, ripeto, non è un gioco collaborativo, è un gioco competitivo, dove ciascuno di voi userà un Witcher, tra l'altro con delle miniature veramente spettacolari. Ci sono diverse scuole, anche perché il vecchio mondo è il gioco ambientato centinaia di anni prima della storia di Geralt di Rivia, e quindi abbiamo tutte quante le scuole dei Witcher che poi sono andate un po' a sparire, di cui, se vi ricordate, in The Witcher 3, il videogioco stupendo, trovate rovine e antiche artefatti. Quindi abbiamo la scuola del lupo, abbiamo la scuola del gatto, e tutte le altre. Ciascun personaggio che voi userete sarà appunto un esponente di quella scuola mandato in giro per il mondo, per il vecchio mondo di The Witcher, a risolvere problemi e soprattutto cosa fanno i Witcher a cacciare mostri. Ciascun personaggio ha il suo set di carte e ha la sua plancetta, che vi farò vedere a breve sia le carte che la plancetta. La mappa di gioco ha diverse location che potranno essere raggiunte giocando delle carte, e un movimento è sempre obbligatorio da regolamento, quindi non potete restare fermi dove siete, ma comunque un movimento lo dovete fare giocando una carta, come vi farò vedere più dopo nella sezione carte. Dovete giocare una carta con lo stesso simbolo del posto dove volete andare, quindi se giocate una carta a bosco vi spostate nel bosco, una carta a montagna vi spostate in una location con appunto il simbolo della montagna. E quando arrivate in quella location potete fare variazioni, ad esempio l'azione della location, quindi ogni location ha un'azione da fare, oppure potete andare in esplorazione, nel caso di una città potete andare in esplorazione nella città, o in esplorazione fuori dalla città nelle terre selvagge. Il giocatore alla vostra destra, dal mazzo esplorazione, se avete scelto città, pesca da quelle città, terre selvagge dalle terre selvagge, gira una carta e come nel buon gioco di Fallout, che vi ricordate ho portato sul canale, o anche nel migliore del libro game, prende, vi legge lui la storia e vi dà varie opzioni. Di solito sono due, opzione A e opzione B. E voi scegliete cosa fare senza sapere che bonus vi darà. Quindi magari potete guadagnare dei punti, potete guadagnare dell'oro o quant'altro. Se non avete carte per fare movimento, non avete una carta con un simbolo, potete scartare due carte qualsiasi, appunto, per fare comunque movimento, o scartare una carta e pagare uno di oro dalla vostra riserva di oro per andare comunque in un posto di cui non avete una carta con tali simbolo, in caso la montagna da raggiungere. E questa è una cosa importante perché comunque bisogna muoverci in tutti i turni e ogni turno non potete fare l'azione del posto da dove partite, ma il posto dove arrivate. E fino a che avete carte in mano potete giocarle anche tutte. Avete sette carte in mano prese dal vostro mazzo e ogni volta che inizia il vostro turno le potete usare anche tutte per spostarvi dove volete, ma vi dovete ricordare che le vostre carte che avete in mano sono anche la vostra possanza nel combattimento. Perché quando andate a fare un combattimento dovete usare, cioè le carte che avete in mano, o meglio nel mazzo da pescare e in mano sono i vostri punti ferita, senza contare ovviamente quelle scartate. Quindi ogni volta che subirete una ferita da un mostro le carte verranno tolte dal vostro mazzo, se non ce ne sono più da quelle che avete in mano, se avete ferita anche le carte in mano perché avete fatto un sacco di azioni, il vostro personaggio è KO, non è morto, è KO però comunque subisce De Malus. E lo scopo del gioco è quello di arrivare a un certo livello di notorietà, un po' come in Western Legends, e diventare il Witcher più famoso guadagnando anche i trofei. Perché ci sono tre caratteristiche che sono attacco, difesa, pozioni più l'abilità speciale che per ogni personaggio è differente e ogni volta che passerete di livello sul contatore, sulla scheda del personaggio dovrete aumentare l'abilità di uno. Una pozione in più, livello di alchimia uno in più, una pozione in più, livello di combattimento uno in più, pescata una carta in più, livello di armatura di scudo in più, di difesa, quindi aumentate di uno il vostro valore di scudi. Quando le vostre abilità superano il vostro livello, che ne so, se tutte le skill le avete a livello 2 e siete a livello 1, passate a livello 2 successivo, quindi quando tutte sono sopra il livello attuale. Quando arrivano a livello 5 siete praticamente un personaggio leggendario che può fare una nuova azione, che è quella, oltre a combattere, potete anche meditare, ad esempio, più che fare l'azione del luogo, oppure potete anche decidere, se siete nella stessa location con un altro Witcher, di sfidarlo a dadi, se lo barche poi al poker, fondamentalmente prendete 5 dadi, li tirate e stessa regola del poker, coppia, doppia coppia, tris, full e quant'altro. Chi vince guadagna dei soldi, e guadagna ovviamente anche altre cose, chi invece perde la sfida non ha la possibilità di prendere niente, oppure potete avere la possibilità di attaccare un altro Witcher e attaccando un altro Witcher, semplicemente lo sconfiggete e al momento che l'avete sconfitto, gli fate perdere caratteristiche e voi soprattutto ne andate a guadagnare. O in più, siete The Witcher, se no vi combattereste solo fra di voi, potete combattere un mostro in una location. Come si combatte un mostro? Prendete la carta a mostro che al momento è presente in quella zona, guardate in bassa a sinistra il numero di punti ferita che ha, 10, prendete 10 carte, il giocatore è la vostra a destra, lo stesso che vi legge le carte tipo libro game, pesca 10 carte dal mazzo mostro, le mette giù e quelle sono i punti ferita del mostro. Quando arrivano a 0 è morto. Voi per attaccarlo dovete prendere le carte che avete in mano, vedere il colore e il simbolo in alta a sinistra della carta e formare delle combo. Come avete visto, pari 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 in Tainted Grail, per fare le combo, sistema che abbiamo già ritestato in altri giochi. Quindi se voi mettete una carta rossa che ha sbocco verde, ci potete attaccare una carta verde, che magari ha sbocco blu e ci potete attaccare una carta blu. Tutte le carte che attaccate a fare una combo, il simbolo della piuma sono i punti ferita che fate al mostro, il simbolo degli scudi sono gli scudi che aggiungete ai vostri scudi e sottraete dal danno che vi farà il mostro. Ogni volta che il mostro subisce una ferita, scartate, giocatore alla vostra a destra, scarta le carte dal mazzo mostro, quando arriva a 0 è morto e voi uguale. Come nel combattimento contro un altro giocatore, quando arrivate a 0 siete KO. Quindi comunque, come avete visto, il gioco è discretamente veloce, però ci sono un pochino di regole, ecco, da tenere a mente. In conclusione, The Witcher, il vecchio mondo, è un gioco molto evocativo, molto tematico, vi deve piacere molto l'ambientazione di The Witcher, è anche un bel fantasy a parte, anche se non avete mai letto romanzi, fatto videogiochi, o manco visto la serie, magari ti ho aggiusto il primo episodio, ci potete giocare tranquillamente. È un bel gioco competitivo, che vi mette in uno contro l'altro un po' la Western Legends. Western Legends, puoi giocare tutto il tempo da solo fregandotene degli altri, però se quell'altro ti supera in fama o punti leggenda, rischia di vincere la partita, perché qui il primo che ci arriva vince, e gli altri hanno perso tutti, qui vince uno solo. Quindi comunque, cerchi di fermarlo, di mettergli i bastoni tra le ruote. È un gioco, secondo me, molto interessante, le meccaniche sono precise, e mi piace il fatto che quando si va anche a combattere, non ci sia il tiro di un dado, ma stia a te tenere le carte giuste in mano, non sprecarle, perché quando vai a fare un combattimento, almeno c'hai una possanza disumana. Per non parlare poi di armi, o di altri oggetti, o le pozioni, che ti danno dei bonus al momento del combattimento. Quindi è un gioco veramente interessante, dove sei te a tenerti le risorse in mano, per non fare, insomma, per non perdere gli scontri, e non finire K.O. Quindi è un gioco interessante, non è un gioco per tutti, perché secondo me è un gioco dove, a parte una certità a 14-15 anni, non è semplicissimo, però comunque si spiega bene, si gioca veramente velocemente, ma è da mettere al tavolo di gente appassionata di fantasy, oppure appassionata di The Witcher, perché altre persone, per un gioco prolisso così, rischi di farlo addormentare, o al secondo turno, dicono vai o da basta, non fa per me. Quindi è un gioco molto tematico, e ci vuole un gruppo particolare. Io ringrazio Pendragon per la copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dal nostro negozio sponsor, Giocolibreria Simola, al miglior prezzo sul mercato. Se andate sul sito della Giocolibreria, scrivete The Witcher, il vecchio mondo, e non c'è in lista, oppure lo trovate, ma le copie sono finite, scrivete una mail al supporto, e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Giocolibreria Simola, si ordinerà il gioco, anche se è fuori catalogo, o se ha finito le copie, ne ordina un'altra per voi. Quindi comunque, anche se vi viene in mente un gioco, che ho trattato sul canale, ma che lui non ha in lista, non lo so, la cosa non ce l'ha, chiedetelo comunque, che magari lo trova e ve lo ordina. Quindi anche prodotti, fuori dal catalogo, e usate sempre il codice discount, Coridan 7, per avere uno scontro del 7%, e per spese superiore ai 79 euro, il Corriere, le spese postali sono gratis, in 48 ore, arriva a casa in tutta Europa, quindi anche fuori Italia. State all'estero, ordinate lo stesso. Ragazzi, per me, come detto, è un gioco molto interessante, è un gioco, su cui voglio fare una partita, è un gioco veramente bello, ha una bellissima componentistica, di miniature, carte, disegni e quant'altro, ma assolutamente, ve l'ho detto, è un gioco per, forti appassionati del fantasy, e di The Witcher. Ciao ragazzi, alla prossima. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima.